ciao a tutti, buonasera bentornati su Apocalisse in Salotto stasera stavamo discutendo con la nostra ospite Sopedet che è stata veramente un Apocalisse ma siamo contenti di ritrovarci in Salotto decisamente grazie cara per aver accettato questo invito e buon rientro nel nostro magico mondo è sempre un piacere essere qua mi sento a casa tra l'altro ho annunciato alla fine dell'ultima puntata che tu hai da poco avuto un bambino e stai ritornando praticamente in attività per la ribalta anche con un corso che stai tenendo per la libreria all'alchimista ma dopo ne parliamo adesso mentre vi accomodate io come sempre vi do l'annuncio della sigla quindi anche chi ci guarda indifferita sa che salta di un minuto questa sigla è per dare modo a tutti di accomodarsi prendete la vostra tazzina il vostro bicchierino qualunque cosa di cui abbiate bisogno noi siamo qui con voi e proviamo molta empatia per il vostro bisogno di alcol facciamo partire la nostra sigla ci vediamo fra un minuto e zero uno sono sorella degli antichi re che mi esiliarono la loro guerra di Milani io tu ormai giù negli abissimi cacciarono e i mari attraversai la notte ombrosa è il mio mandaglio 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 allora cara bentornata io la nostra ospite ve la presento di volata perché in realtà la conoscete già è stata già ospite di Apocalisse in salotto 2 se non tre volte non ricordo anche quattro sai forse anche quattro davvero non stiamo qui ora a rimoginare a me sembrano di più di due o tre però mi posso sbagliare ma forse perché siamo in vacanza insieme ti sembra di più può darsi forse è vero hai ragione comunque sicuramente hai ragione tu brava mi pare un buon modo di chiudere la questione assolutamente non mi metto contro le Apocalissi per favore vedi 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 la saggezza dicevo Soppedet è stata già nostra compagna di merende e ha scritto due libri il primo dei quali mi ha spinta a contattarla che era Magia ed elementi nell'antico Egitto e poi ne ha scritto un altro che si chiama Divinare con i geroglifici egizi quindi inutile dirvi che è appassionato di antico Egitto che affronta dal punto di vista magico religioso e stasera io l'ho invitata qui per parlarci di un argomento molto specifico che riguarda la dottrina egizia ma che interessa anche i ricercatori del presente perché si fa un gran parlare dei corpi sottili dell'essere umano ma vedremo che è una dottrina che arriva veramente da lontano questo pensiero che non siamo solo carne e che non solo non siamo solo carne ma che i nostri strati spirituali sono suddivisi in vari come possiamo dire gusci di cipolla sì perché è una buona descrizione o come una radio che ha tante frequenze è molto meglio la radio molto meglio la radio e niente quindi ti inviterei a introdurci un attimo l'argomento per come veniva affrontato all'interno della dottrina egizia poi magari tentiamo anche qualche parallelismo insieme a chi ci sta seguendo è chiaro perfetto allora intanto c'è da dire che prima ovviamente di introdurre in maniera specifica quelli che sono questi corpi queste sostanze più solide più sottili a seconda insomma del loro piano di collegamento c'è da dire proprio questo che nell'antico Egitto come dire c'era una concezione molto profonda dell'uomo sicuramente non era soltanto corpo ma questo già anche le persone meno interessate o meno appassionate lo sanno perché già sapere la pratica della mummificazione che cos'è e perché esiste la preservazione del corpo che possa vivere in eterno ma prendendo un esempio proprio eclatante i testi delle piramidi quindi tutto il percorso di ascesa del faraone che poi col tempo si identificherà con l'individuo stesso che parte da una dimensione ovviamente materiale per poi diventare sempre più leggero sempre più leggero quindi spogliarsi liberarsi come dire da tutte quelle che sono le sostanze più sempre più pesanti a quelle meno pesanti alla fine diventerà luce quindi questa descrizione del ricongiungimento con come dire una dottrina delle origini quindi con l'origine la coscienza cosmica universale la possiamo definire il divino ecco come ci viene più consono sicuramente gli egizi lo definivano Ra o anche Atum naturalmente fa tutto parte di questa concezione che sta dietro l'individuo stesso che appunto è fatto sì di carne e ossa in primis in collegamento con questo piano il piano della materia il piano in cui vive ma l'uomo non è solo questo l'uomo è un'antenna un albero è collegato sia al piano terreno che chiaramente ai mondi superiori fino ad arrivare proprio a quello stellare ai mondi celesti che si suppone secondo gli egizi che sia dove gli dei siedano per cui questo percorso è certamente un percorso che va a salire e sta alla base di tantissime dottrine ovviamente dell'ermetismo che ha seguito gli insegnamenti egizi anche gli ermetisti ci parlano di tante forme corporee appunto che non sono decisamente diverse cioè tutte queste frequenze appunto fanno parte della stessa radio quindi convivono coesistono alcune ce le abbiamo già dalla nascita altre lo vedremo come per esempio l'hack si dovrà acquisire come il saco sono delle delle parti appunto del corpo che non sono innate ma vanno acquisite con un certo tipo di lavoro una certa dedizione ovviamente non è non è per tutti altre sono sono chiaramente parte di noi e sono concatenate fra loro quindi adesso vedremo in che modo agiscono chiaramente ci divertiremo perché è un un discorso non semplicissimo da fare ma cercheremo ovviamente di renderlo chiaro sì anche perché tu poco fa hai citato per esempio le dottrine ermetiche ma mi vengono in mente anche le ricostruzioni di Powell per esempio sui corpi sottili dell'uomo eterico astrale mentale eccetera il mercurismo invece abbiamo i classici quattro corpi Saturno Luna Mercurio e Sole e secondo me uno degli atteggiamenti più diffusi è quello di credere come dicevo prima che siamo fatti a strati strati che fra loro non comunicano invece tu hai fatto notare bene che questi diversi corpi sono semplicemente diverse densità dell'individuo che coesistono all'interno dell'individuo stesso quindi sono anche in interrelazione in interscambio continuo fra loro assolutamente sì nell'insieme formano la completetta dell'individuo non possono essere scissi fra di loro anzi la scissione può essere la fine dell'individuo stesso faccio un esempio pratico quando l'individuo muore cos'è che avviene avviene che il K che adesso vedremo di affrontare il K che è questa forza vitale che ci appartiene nel senso stretto ma va spiegato un po' meglio però questo nostro K si scinde si separa dal corpo fisico ora chiaramente questo avviene come dicevo con quella che viene chiamata morte morte fisica non potrebbero queste parti staccarsi dal corpo durante la vita cioè sarebbe impossibile chiaramente c'è una sorta di ecco giusto anche per introdurci all'interno di questa di questa descrizione dei corpi c'è una sorta di collante lo possiamo chiamare così o di agente elegante che tiene uniti tutti questi corpi specialmente quelli del piano diciamo più più alto quello più in connessione con il cielo e questo per esempio è il sechem così chiamato proprio sechem letteralmente significa agente elegante o meglio in realtà è una sorta di sechem viene dal termine sechem che significa bruciare conosciamo il termine sechem e tutti di questa dea l'onessa ecco lei appunto il cui fuoco brucia è una dea di fuoco ma questo corpo proprio sechem noi ce lo ritroviamo lungo tutta la spina dorsale e qualcuno lo chiama anche kundalini in sostanza giusto per usare dei termini non egizi siamo fuori contesto però il concetto ci sta tutto è questa sorta di energia che è legata dal nostro diciamo dalla nostra dalla base della nostra spina dorsale dalla zona del coccige e va a salire e chiaramente mette in comunicazione sia il mondo di sopra che quello di sotto e così facendo tiene in connessione tutti i corpi i corpi che ci appartengono quindi questi corpi collaborano fra di loro interagiscono altra cosa è se noi ce ne rendiamo conto chiaramente perché uno dei compiti più ardui degli iniziati all'interno appunto dei templi egizi era sicuramente quello diciamo di indagare e di creare delle connessioni consapevoli tra la propria energia diciamo spicciola quindi quella un po' più facilmente percettibile e quelli che sono dei corpi un po' più profondi un po' più immersi all'interno infatti altra puntualizzazione importante non abbiamo una gerarchia ascendente cioè ciò che sta in basso e ciò che sta in alto ma abbiamo una gerarchia di sottilezza quindi quello che è più grave è quello che via via è più sottile ma come dicevi tu anche più profondo sicuramente è questa interconnessione non è come in alto così in basso però indubbiamente c'è un'interconnessione con tutti i piani con il piano della materia e con il piano celeste e anche con i piani che stanno nel mezzo chiaramente perché è tutto un concatenarsi chiaramente di piani quindi giusto per sì tu giustamente hai citato bene prima gli ermetisti diciamo più che altro si sono soffermati sulla descrizione dei vari piani energetici senza specificare che in realtà ad ogni piano corrisponde anche un corpo perché se noi siamo oggi qui sul piano della materia lo siamo con questo corpo ce lo siamo col corpo materiale nel momento in cui dobbiamo fare un percorso di ascesa oltre diciamo la vita terrena non avremo più il corpo lo faremo con altre spoglie ma continueremo a farlo quindi ad ogni piano corrisponde una parte del nostro corpo diciamo quella adatta ad interagire con quel determinato piano sembra anche abbastanza logico in realtà e questi corpi sono addirittura nove quindi non è che sono pochi c'è da chiedersi anche come mai questi corpi sono proprio nove in realtà c'è qualcuno che dice che sono dieci ma cambia ben poco come concetto diciamo così come esiste l'enneade di Eliopoli che è fatta di nove divinità come mai anche qui c'è da chiederselo perché così come sappiamo che gli egizi sono molto attaccati ai numeri e numeri intesi come principi cosmici presenti in natura per cui i numeri che vanno da uno a nove sono la descrizione di tutta la creazione si può dire a tutti gli effetti partendo dall'uno che è l'indiviso diciamo il divino che non è né maschio né femmina ma che contiene ancora tutti e due i principi quindi è l'androgino che poi si scinde si sdoppia e crea appunto un principio maschile un principio femminile che poi a loro volta la prima coppia che poi darà vita alle varie manifestazioni per cui arrivare fino al nove significa concludere questo ciclo creativo anzi per la precisione poi tornare al dieci è la stessa cosa perché comunque è ritornare allo stesso tempo all'uno originario cioè aver concluso interamente il ciclo ed essere ritornati all'origine per cui il fatto che siano nove è sempre comunque legato si può andare a ricercare sempre nell'aspetto mitologico questo significato che è sempre molto corrispondente ecco io le chiamo leggi di corrispondenza perché anche se non c'entrano apparentemente nulla in realtà sono sempre collegati i temi relativi alla creazione dell'universo i numeri e quindi anche il numero dei corpi il nove è un numero molto importante nell'antico Egitto legato appunto alla creazione ok quindi possiamo dire che c'è questo rapporto di corrispondenza fra l'ordine cosmico e un ordine che si ricrea all'interno dell'essere umano però come dicevi prima appunto non tutti i corpi sono esistenti o dati all'interno dell'essere umano ma alcuni diciamo che sorgono vengono a coscienza o si creano a seguito di un percorso iniziatico immagino sì diciamo non necessariamente iniziatico però un percorso di consapevolezza profonda quello sicuramente ok quindi vediamo di andare con ordine immagino che andremo dal più grave dal più grave dal più grave al più sottile sì certo non fa niente possiamo certamente iniziare con quello che diciamo è alla nostra vista ovvio che è il corpo il cat appunto così così chiamato allora il cat per gli egizi ovviamente è proprio il corpo inteso come non come anima vivente proprio ma il corpo nudo e crudo cioè ossa pelle siamo un mucchio d'ossa e di pelle letteralmente soggetti a decomposizione perché il cat proprio significa che si decompone che è soggetto a decomposizione ed è così questo siamo diciamo da un punto di vista proprio strettamente materiale però è una parte molto importante è una parte molto importante durante la vita ed è collegato a sua volta non possiamo non menzionarli perché proprio vanno di come dire di pari passo è collegato al suo doppio energetico chiamiamolo così abbiamo il cat che è il corpo e poi c'è il ca che è il suo corrispettivo esatto proprio energetico anzi potremmo dire che il ca in qualche modo scolpisce crea anche quella che è la nostra forma umana quindi se il ca esempio dovesse modificarsi vedremo che questo può anche succedere anche il corpo subirebbe delle modifiche di fatto i tre corpi ancorati proprio a questo piano e che interagiscono fra di loro sono il cat ripeto quindi il nostro corpo il ca che è il nostro doppio energetico e poi ovviamente c'è anche l'ombra che viene chiamata in egiziano caibit caibit queste tre parti sono letteralmente concatenate adesso le andremo un pochettino ad analizzare ovviamente nello specifico quindi come dicevo il cat è quella parte del nostro corpo che è soggetta a decomposizione ed è quella interessata al momento della mummificazione perché quando il corpo viene mummificato viene come si sa non vado troppo nei dettagli però ovviamente va lavato va svuotato di tutto quello che sono i liquidi chiaramente le viscere ecco tutto ciò che chiaramente va a decomporsi velocemente e in questa maniera perché viene fatto questo lavoro perché si teneva al concetto di immortalità l'immortalità era legata alla preservazione del corpo alla sua protezione chiaramente alla sua sopravvivenza insieme al corpo c'è questo ca che deve rimanere attaccato al corpo insieme anche all'ombra cioè di fatto la mummificazione è una specie di una specie di gabbia diciamo così perché è vero che protegge il corpo lo preserva lo lava eccetera ma in realtà lo sta anche lo sta anche un po' rinchiudendo come un involucro che viene chiuso a chiave dove all'interno ci sta il corpo il ca e l'ombra per fare in modo che queste parti diciamo non se ne vadano in giro a in mezzo ai vivi perché lo potrebbero anche fare per cui onde evitare questo e comunque per mantenere un'integrità dell'individuo per far sì che queste parti non si vadano a dislocare ovunque la mummia ha anche questa funzione c'è proprio quella di chiudere a chiave queste queste parti perché l'ombra o comunque il caibit non è altro che la nostra come dire la nostra personalità l'immagine della nostra personalità silenziosa quindi in un termine moderno si può chiamare anche fantasma quindi non è altro che quella parte che si palesa quando per esempio noi dormiamo è capitato di qualcuno che ha avuto queste esperienze di vedere se stessi fluttuare in alto o per esempio in stati particolari come stati di coma può succedere che l'ombra esca fuori quindi diciamo è una parte che per gli egizi niente di strano che si potesse vedere la propria manifestazione diciamo sottile al di fuori perché per loro non c'era una differenza tra il mondo reale tra virgolette il mondo non reale c'è quello appunto degli spiriti o dei fantasmi come li vogliamo chiamare per loro non c'era nulla di strano era tutto insieme tutto concatenato per cui non era da stupirsi sotto questo fronte quindi queste tre parti vanno sempre in qualche modo menzionate insieme non so se mi vuoi dire qualcosa perché mi è venuto in mente un collegamento molto interessante però non vorrei essere poco chiara ecco quindi dimmelo se c'è qualcosa che mi pare di capire che abbiamo quindi una prima triade poi ci dirai che ci sono altre due triadi in un certo senso se le vogliamo definire così giusto per stare nel tema egizio perché no allora sì indubbiamente quindi menziono un attimo anche il il ca che appunto fa parte di questa triade allora il ca intanto è rappresentato come molti sapranno con queste mani che tendono verso il cielo così che non ha non stanno esercitando un potere semmai sono in uno stato passivo cioè stanno captando come due antenne un potere un'energia che comunque viene dall'alto questo si capisce ma questa posizione qua è resa molto bene anche dall'immagine del toro che nell'antico Egitto si chiama sempre ca quindi per rimandare a questa forza vitale primordiale anche che è fortemente associata alla luna è associata come principio maschile intendo quindi è associata alla luna è associata all'acqua quindi alla ricettività in questo senso questo già ci fa capire la natura di questa energia che non è un'energia attiva ma semmai appunto come dicevo ricettiva passiva e soprattutto è associata per esempio anche alla placenta perché questo liquido amniotico è fondamentale la placenta ha una forte connessione con la luna stiamo replicando un ternario sole luna terra perché perché la placenta non è altro che quell'involuco esterno che come dire copre il sole fino al momento della sua nascita per cui il legame tra il sole e la luna è come il legame tra due principi che possono sembrare opposti ma in realtà sono complementari devono esistere entrambi perché possa esistere anche l'equilibrio cosmico per cui abbiamo questo ternario luna sole e terra che si replica bene in questi tre corpi di cui abbiamo appena fatto appunto menzione quindi allora questa energia questo Ka noi come lo assimiliamo allora intanto il Ka si nutre dei profumi delle essenze e di tutte dell'essenza che è contenuta all'interno delle bevande e dei cibi questo è il motivo per cui nei templi si fanno le offerte agli dei di fatto si stanno facendo le offerte al Ka del defunto o degli dei a seconda di chi a chi si hanno rivolte queste offerte quindi il motivo è questo perché il defunto possa anche dopo la morte continuare a nutrire il proprio Ka attraverso questi cibi appunto che sono stati offerti a lui il Ka è anche cioè bisogna dire questo anche da un punto di vista pratico il Ka è come dire è prettamente mentale quindi tutto quello che produce il Ka rimane nel piano della fantasia nel piano della mentale della mente non diventa atto concreto quello è un compito che spetta a dei piani sicuramente più alti questo il Ka non lo fa però può essere comunque un pericolo da un punto di vista magico qui sto parlando cioè il Ka può creare delle forme pensiero così chiamate in esoterismo e queste forme pensiero possono interferire nella mente degli individui possono interferire nella mente qual è lo scopo delle forme pensiero poi di fatto è un vampirismo cioè hanno lo scopo di approfittare delle forme pensiero per comandarle per gestirle questo è il motivo per cui si lavora tanto sul controllo della mente si lavora tanto sulla gestione dei propri pensieri del flusso appunto dello scorrere dei propri pensieri perché è una quello del vampirismo comunque quello degli attacchi psichici è qualcosa che esiste e che viene proprio da questa da questa dimensione che è quella del Ka non so se ho reso questa questa idea perfetto perfetto e quindi diciamo come dicevo resta nel mondo della fantasia c'è da dire che tutti tutti diciamo il regno dominato dalle forze più basse quindi dalle energie più basse come per esempio li possiamo chiamare demoni li possiamo chiamare fantasmi come ci pare sono tutte legate a questi primi tre piani piani proprio terreni quindi questi tre corpi qui sono quelli soggetti a questo tipo di intrusioni se le vogliamo chiamare così andando più in su ci sono altre entità che però sono numericamente inferiori ma qualitativamente molto più elevate per cui il lavoro è completamente diverso quindi interagire con i piani più bassi non è mai conveniente perché non si sa con chi si ha a che fare ma sono comunque entità di basso rango chiamiamole pure così ecco giusto per aprire una parentesi su questo su questo piano mentre per quanto riguarda l'ombra o appunto il calibit come dicevo è la nostra personalità nascosta silenziosa cioè dentro l'ombra risiedono le nostre emozioni le nostre passioni più profonde in realtà avrebbe detto anche anche che l'ombra è un po' il nostro ostacolo maggiore cioè dentro l'ombra c'è il il copione sto cercando un termine adatto il mito della nostra vita il copione della vita che noi vorremmo vivere non corrisponde chiaramente alla realtà nell'ombra ci sono delle percezioni del nostro corpo di noi stesse che sono diverse dalla realtà per esempio noi nell'ombra non percepisce il corpo fisico così com'è lo può percepire per esempio più bello lo può percepire più brutto a seconda diciamo della della circostanza l'ombra tra l'altro non vive lo stesso tempo che viviamo noi in termini di ore e minuti cioè mentre per esempio il K è esattamente il nostro doppio energetico rispetto proprio al corpo e quindi vive con noi giorno dopo giorno minuto per minuto e quindi assimila anche i ricordi esattamente come li assimiliamo noi l'ombra non lo fa l'ombra gestisce i ricordi le nostre esperienze quello che insomma ci capita le gestisce in tempo reale ma anche se sono avvenute vent'anni fa quindi ha un'elaborazione del vissuto molto diversa da quella nostra cioè da quella del K appunto per essere precisi quindi diciamo lo scopo dell'ombra nella nostra vita è quello di non di combatterla ma di riconoscerla affrontarla sciogliere sciogliere quelli che sono i nodi della nostra vita noi nei testi delle piramidi leggiamo allora leggiamo Unas tu non sei andato via da morto sei andato via da vivo e poi dice io sono uscito dal gioco del serpente cos'è questo gioco del serpente che è realmente un gioco il mehen è un gioco egizio di questo serpente arrotolato ma come sempre la simbologia si nasconde dietro ogni porta il gioco del serpente sono le vicissitudini diciamo le vicissitudini della vita ecco tutte le dinamiche di noi mortali queste dinamiche che noi dobbiamo in qualche modo affrontare quindi lui dice io sono uscito fuori dal gioco del serpente quindi non faccio più parte di queste dinamiche perché ormai sono andato in un'altra dimensione sono andato oltre il corpo fisico questo è il senso di questa frase quindi chiaramente faccio un po' un esempio simbolico la lotta tra Ra e Apophis Ra combatte tutte le sere contro questo serpente gigante per rinascere il giorno dopo ma lui questa lotta la fa tutte le sere ora non sarebbe stato meglio prendere una spada tagliare la testa ad Apophis e levarci il pensiero così sto sole sorge tutte le mattine in pace senza sto questo afflizio no non è così perché eliminare Apophis è eliminare una parte importante dell'equilibrio cosmico quindi non è il punto non è eliminare il serpente è esorcizzarlo questo serpente e lo stesso dovremmo fare noi con la nostra ombra appunto con il Caibit superare questo scoglio sciogliere questi nodi ci darebbe un grande accesso ad un altro corpo importantissimo che è appunto l'Ak cioè ci fa diventare esseri di luce ci illumina ci rende più consapevoli ci avvicina ad un percorso di innalzamento estremamente importante ci avvicina al divino in sostanza e mi pare di capire che qua siamo arrivati alla seconda triade cioè la prima si chiude con questa sorta di corpo ombra che mi pare assomigli molto all'inconscio sì certo chiaro ci sta tutto che dovrebbe praticamente essere reintegrato all'interno dello spazio e del tempo in cui l'individuo vive effettivamente e che dovrebbe essere in qualche modo tratto in salvo dalla sua stessa narrazione di una vita che a volte può non corrispondere a quella reale e con questo chiudiamo la prima terna e entriamo nella seconda terna dicevi con l'Ak sì allora l'Ak è il punto di fatto di arrivo dicevo che appunto l'ombra è quello scoglio fondamentale che bisogna superare per poter avere accesso a questo piano superiore in realtà per accedere all'Ak serve questo sicuramente ma serve anche altro che è qualcosa che conosciamo già il cuore cioè nel cadico che abbiamo parlato prima c'è sempre anche qua il collegamento con il nostro cuore e con il ren che è il nome adesso dovremmo parlare di questi che appunto precedono questa ascesa chiamiamola così dunque il cuore nello specifico ha un suo doppio allora il cuore fisico abbiamo due tipi di cuore ma in questo momento a noi quello che ci importa è quello da un punto di vista energetico proprio il cuore in senso fisico gli egizi lo chiamano Ati il cuore in senso di anima lo chiamano cioè lo chiamano Ib nel senso di sede dell'anima sede del nostro del nostro intelletto della nostra conoscenza Ab ha il suo corrispettivo in Ba che è l'anima appunto possiamo definire quindi Ab e Ba stanno assolutamente concatenati adesso vediamo di capire perché il l'Ab o anche chiamato Ib è la sede del nostro non solo del nostro pensiero ma di tutta la nostra vita praticamente cioè noi nel cuore abbiamo tutto tutto quello che abbiamo fatto i nostri impianti i dolori i gioi e tutto non possiamo scappare questo è il motivo per cui senza dilungarmi troppo come sappiamo il cuore viene pesato nella famosa psicostasia viene messo accanto a questa piuma perché chiaramente è là che è contenuto tutto quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto per cui non è possibile scappare cosa succede in questa cerimonia se il cuore viene ritenuto idoneo può procedere oltre che cosa vuol dire concretamente vuol dire che in un tempo indefinito perché non è una cosa comunque immediata questo cuore potrà finalmente insieme all'anima a quel punto potrà diciamo riunirsi riconciliarsi con le altre parti del suo corpo e quindi quel corpo rimane integro e può proseguire il suo viaggio verso altri strati altre consapevolezze se il cuore non viene ritenuto edonio viene mangiato da un mostro che è appunto il mostro ammitte che rappresenta queste acque della creazione dove tutto ancora non si è manifestato quindi questo cuore si annulla si annichilisce la persona stessa a quel punto si annichilisce il cuore viene inglobato all'interno di queste acque e quindi da lì poi ripartirà da zero si ripartirà proprio con un nuovo ciclo quella persona sarà come se non fosse mai esistita non potrà procedere lungo questo percorso perché va sempre ribadito che la morte nell'antico Egitto non esiste come la concepiamo noi loro dicevano sulla terra si esiste nel cielo si vive per cui già questo ce la dice lunga cioè l'esistenza non corrisponde alla vita come la intendono loro nel senso di Ankh la chiave della vita è una chiave di accesso costante sempre ad altri piani di consapevolezza quindi non si finisce mai questo percorso il ba invece di cui appunto parlavamo poco fa si può chiamare anima anima se la concepiamo nel senso di essenza cosmica cioè quella parte che fa parte del cosmo appunto del divino che si è diciamo che è contenuta dentro di noi noi nel ba abbiamo non solo i ricordi di questa vita ma abbiamo i ricordi di tutte le vite che abbiamo vissuto quindi è un registratore proprio delle nostre vite precedenti tutto quello che noi siamo e questo ba è rappresentato come una cicogna dalla testa umana o secondo altri da un falco con la testa con la testa umana comunque una caratteristica alata proprio perché al momento della morte il ba lascia il corpo ed è libero di muoversi il ba è l'unico corpo che si può muovere liberamente senza ancoraggi diciamo può tranquillamente spostarsi voglio per questo essere rappresentato con questa con questi ali di uccello e la testa che normalmente è quella del defunto appunto l'anima è personalizzata ecco tutto questo cosa c'entra con il ren cioè con il nome punto interrogativo c'entra tutto perché il nome è la nostra etichetta diciamo è quella che ci contraddistingue dagli altri esseri venti cioè il cuore è quella configurazione sonora ben precisa a cui si associa il nostro corpo il nostro aspetto il nostro cuore tutto cioè dalla musica dal suono prende forma il nostro corpo così come prendono forma tutti i corpi quindi quella determinata sequenza si associa alla nostra persona qui ci sarebbe da dire tanto perché ecco i faraoni per esempio dove scrivevano il loro nome lo scrivevano nel cartiglio questo cartiglio che cos'è è il simbolo sa che è un simbolo di protezione molto molto forte e questo e questo simbolo appunto aveva lo scopo di proteggere il faraone ma tramite il nome cioè se io cancellassi il nome del faraone nel cartiglio e ci mettessi il mio io mi starei appropriando del potere del faraone non solo gli sto togliendo l'immortalità gli sto togliendo la sopravvivenza quindi in poche parole lo sto uccidendo giusto per chiarirci quindi il nome è un è una come dire una formula di potere un eca a tutti gli effetti quindi la sua pronuncia conoscere il nome segreto di una persona equivale ad entrare nella sua essenza e quindi poterlo comandare poter interferire nella sua nella sua vita quindi insomma è abbastanza pesante come come cosa sì mi viene in mente che il nome come vibrazione possiamo anche paragonarlo a quello che nella scienza del suono e anche in esperimenti recentissimi viene studiato questo fenomeno che si chiama battimento battimento secondo il quale la media fra due suoni produce un suono di risultanza che è come quella vibrazione del diapason e che può muovere la materia quindi il nome in quanto vibrazione può interagire con altri suoni e altre vibrazioni è bellissimo vedere come a distanza di migliaia di anni noi abbiamo ormai una scienza che riesce a confermare e non solo su questo fronte ma su tanti altri riesce a confermare delle cose che prima sembravano sembravano atti di magia magia nel senso spicciolo del termine cioè come qualcosa di impossibile invece oggi noi scopriamo che la vibrazione esiste con la scienza quantistica eccetera con la scienza del suono cioè ormai tutte queste queste cose gli egizi le conoscevano già ma non solo gli egizi i popoli antichi comunque le conoscevano già e oggi noi ne abbiamo proprio la prova scientifica quindi è molto bello molto soddisfacente questo questo fatto devo dire e quindi all'interno di questa seconda terno praticamente riassumendo noi abbiamo la vibrazione sonora sì che corrisponde a una persona che ha il suo nome il suo ren e la sua in qualche modo se io non ricordo male ren è una è raffigurato come una bocca da cui escono dei raggi sì lo faccio vedere aspettate che io sono negata eccolo qua quindi praticamente è una parola creatrice esatto allora letteralmente quando viene dato il nome ad una persona equivale letteralmente a crearla perché e qui c'è di nuovo il mito di mezzo Ra o Atum come ha creato l'universo lo ha creato in due modi attraverso il SIA che è l'intuizione la conoscenza e Q che sono le parole di potere il verbo quindi il mondo nasce da una vibrazione che è ovviamente connessa un pensiero creativo quindi il REN crea da forma da vita alla persona a tutti gli effetti quindi questa bocca è il suono R letteralmente è il geroglifico della bocca quindi della bocca che sta pronunciando e poi sotto queste linee ondulate è il geroglifico dell'acqua il suono è appunto N quindi abbiamo R N che equivale non solo ai liquidi ma proprio al modo ondulatorio dell'onda vibratoria ecco proprio l'ondulazione in termini chiari quindi nell'insieme è la pronuncia e la vibrazione legata a quella pronuncia questo è il nome quindi ti sei o anche qualcuno diceva alle acque come utero creativo tra virgolette sì è un'altra possibilità ma perché comunque l'acqua è un elemento incredibilmente sensibile ricettivo è sempre in movimento quindi l'acqua ancora una volta richiama questa idea della vibrazione è l'elemento sicuramente più concreto da questo punto di vista si può proprio vedere perché la vibrazione in realtà risiede in ogni cosa questo ce lo dicono anche gli ermetisti risiede anche nella sedia dove siamo seduti è il grado di vibrazione che cambia per cui chiaramente noi non la vediamo la vibrazione che c'è nella sedia perché il movimento è lentissimo ma nell'acqua per esempio questo movimento è palese di fatto è l'elemento di movimento per eccellenza e quindi all'interno di questa terna dicevamo abbiamo vibrazione vissuto e anima quindi coscienza che sta vivendo questa ruota praticamente sono molto curiosa a questo punto di sapere cosa c'è nella terza terna perché pare che abbiamo già detto tutto ma io sono ci sono i corpi superiori sì certamente noi abbiamo il SECEM che mette in comunicazione tutti i corpi ma soprattutto mette in comunicazione i corpi di cui abbiamo parlato fin da ora con quelli superiori quindi per arrivare al piano dell'AC cioè della luce dobbiamo passare dal SECEM ora questo SECEM è una forza creativa vitale molto forte che ci appartiene è una forza però difficile anche da gestire voglio per questo c'è il rimando alla Dea SECMET questa leonessa che se si fa prendere insomma la mano non la possiamo più fermare ma anche lì c'è sempre una una spiegazione diciamo un ritorno ecco questa forza che è rappresentata con lo scetto del potere proprio che si chiama SECEM brucia è una forza con cui ci si può bruciare facilmente e come dicevo appunto passa dalla dall'energia della Kundalini per cui avere la consapevolezza e la padronanza c'è l'uso di questa forza ci può portare a sciogliere le briglie e poter salire ai piani più alti e raggiungere questo HAC che appunto è un corpo che non esiste inizialmente ma è un corpo che si viene a creare durante il nostro percorso di ascesa per spiegarlo io sorrido perché è uno dei temi che ho affrontato più prepotentemente nell'ultimo libro che ho scritto che è i misteri di Inanna e che adesso è in bozza stampa e Sekhmet mi ricorda moltissimo in quello che hai detto Inanna e questa forza da cavalcare che d'altronde anche lei sappiamo che è paragonata molto spesso alla leonessa o meglio con lei che cavalca il leone che nei primi pictogrammi te l'ho detto che dobbiamo fare un come dire un accostamento perché secondo me ci sarebbero molte tematiche interessanti ma non è questo il momento se no facciamo mezzanotte ok infatti esatto e va bene quindi sì dicevo l'ac è disegnato lo faccio vedere è un ibis mi pare che sia esattamente l'ibis comata eccolo qua l'ibis comata che poi è l'animale sacro a tot l'ibis diciamo appunto di tot il signor che non è soltanto il signore dei geroglifici nonché il grande matematico astronomo insomma chi ne ha più ne metta veramente grande mago eccetera l'ibis richiama anche l'immagine della fenice chiaramente che risorge dalle proprie ceneri quindi la connessione con questa luce con il fuoco ma anche con la luce e allo stesso tempo anche con con la creazione quindi chi sono gli Aku nei testi delle piramidi si parla spesso di questi Aku dunque sono gli dei però probabilmente cioè non è chiaro nel senso almeno per me non è chiaro ovviamente io non sono un'egittologa però nei testi delle piramidi si parla sia dei Negeru quindi degli dei con questo nome e poi si parla degli Aku quindi sono sicuramente degli spiriti luminosi molto molto puri molto saggi che sono ascesi e che vivono comunque con gli dei è chiaro questo per cui probabilmente sono forme divine avevo letto addirittura da qualche parte che c'era chi li chiamava angeli custodi ma personalmente non amo questa corrispondenza nel contesto egizio però sono delle anime pure sicuramente questo questo è certo quindi che avevo letto mi pare essere glorificati quindi non originariamente divini ma divinizzati sì allora da Ak viene il termine Imak che in egiziano vuol dire venerato glorioso quindi ci sta assolutamente ma se pensiamo che Akenaton no Amenhotep IV si è dato questo nome Akenaton Ak En Aton che significa letteralmente la luce che viene da Aton ecco Ak intesa come luce En grazie A per conto di Aton quindi letteralmente è proprio sono questi esseri di luce con luce si intende proprio non necessariamente il bagliore ovviamente anche perché c'è questa brillantezza sicuramente che è legata anche alle stelle dove si trovano però è proprio il corpo è un corpo di luce cioè un corpo dove non c'è più corporeità non c'è più niente rimane solo la luce ecco per per intenderci quindi è proprio uno strato estremamente sottile il più alto che possiamo a cui possiamo sicuramente aspirare quello che raggiunge il faraone al termine del suo viaggio in cui si potrà veramente congiungere agli dei perché per potersi congiungere agli dei bisogna essere fatti della loro stessa sostanza ovviamente l'ak divino non è lo stesso ak che l'individuo può raggiungere ma è la sostanza più simile a cui si può congiungere dicevo prima che i corpi possono essere considerati anche dieci perché c'è questo c'è questo sa sa così chiamato questo questo corpo che è rappresentato non so se avete presente il simbolo sa faccio vedere magari se me lo ritrovo qui da qualche parte eccolo qua il Sahu è questo qua eccolo questa sorta di sono dieci nodi no? è come un nodo così un nodo unico ma in realtà è diviso in dieci nodi che poi si uniscono insieme e formano un unico nodo questi sono è letteralmente la completezza che l'individuo raggiunge l'unione di tutti i corpi che interagiscono insieme che tutti hanno fatto il loro diciamo percorso all'interno del loro piano e che hanno raggiunto quindi la perfezione allo stesso tempo sono dieci nodi perché appunto si ricongiungono all'uno all'unità cosmica ad atom in sostanza quindi questo sarebbe proprio il coronamento dell'individuo e così abbiamo chiuso fra virgolette il viaggio almeno in teoria credo che ci vorrà un'altra diretta intera per spiegarlo sì io ho cercato di impostare il tutto in maniera il più semplice possibile perché non è facile andrebbe preso il libro dei testi delle piramidi di ferragosto al fuoco veramente sì però nei testi delle piramidi c'è proprio un continuo rimandare a questi corpi ed è veramente interessante c'è proprio lì c'è una spiegazione su cui bisogna sempre soffermarsi ma è un compendio proprio in cui c'è questa continua ascesa del faraone verso l'alto dove si libera man mano di questi corpi e quindi è molto molto interessante andrebbe proprio fatta questa spiegazione associata con il testo alla mano andrebbe fatto ma ci vuole troppo tempo non è fattibile beh magari lo faremo a parte possibile io ci sto io a questo punto ti passo una domanda se qualcun altro ha delle domande da fare le scriva pure all'interno dei commenti che io le passo alla relatrice quindi chiede Valeria se Amit mangia lib il defunto potrà successivamente reincarnarsi oppure no cioè è finita lì sì no beh è chiarissimo la domanda è chiarissima allora purtroppo quando si parla di reincarnazione è la stessa vita che poi si propaga no? che si va sono nuovi cicli vitali ma associati alla stessa anima e quell'anima è legata al cuore nel momento in cui il cuore viene mangiato quella persona potrà rinascere ma dovrà ricominciare tutto da capo per cui non c'è una reincarnazione c'è proprio un ricominciare da zero quindi tutte le sue vite precedenti tutto ciò che ha fatto è annullato c'è proprio uno stato di annichilimento scusate sì viene reinglobato nelle acque del nun e da lì poi rinascerà ma rinascerà proprio da zero ecco non da dove aveva lasciato è brutta fine sì è meglio è meglio osservare è meglio osservare una buona condotta e proprio per questo c'è il principio cosmico Matt proprio per tutto questo diciamo per la serie non dite che non ve l'avevo detto agli egitti proprio a ribadirlo continuamente beh io ti ringrazio per questa panoramica perché è stata davvero interessante affascinante e come ho detto prima credo che tu abbia fatto proprio ho messo carne al fuoco e fatto la grigliata di Ferragosto quindi spero che è piaciuta e magari sarà a modo la potremmo sempre riprendere in futuro certamente sì perché a mio parere riascoltandosi la diretta o anche chi l'ascolterà indifferita si andrà a vedere diverse cosette quindi se vuoi dare qualche consiglio di lettura a parte ovviamente i tuoi libri che ricordiamo sono Magie delle menti nell'antico Egitto e Divinare con i geroglifici egizi in cui potete trovare anche qualche utile indicazione sull'egiziano che è l'egiziano geroglifico è una lingua che vi raccomando io certamente mi sento di consigliare sul discorso dei corpi non c'è un libro che parli solo di quello è chiaro la cosa migliore è andare sui testi delle piramidi dove ci sono dei preamboli molto interessanti come per esempio questi qui di Atomveggi che si chiama I testi delle piramidi di Unas dove all'inizio prima dei testi c'è tutta una parte dedicata ai corpi dedicata insomma a tutta una serie di cose e anche questo che ho preso da non molto ma ho quasi terminato non so se si legge L'eterna luce dei testi delle piramidi di Christian Jacques che è un egittologo e anche un romanziere io personalmente lo adoro e spiega tutto in maniera molto chiara ed esaustiva questi sono i due libri in riferimento a questa tematica che sicuramente suggerisco per quella che è la mia esperienza aspetta vediamo se trovo qualcosa anche qua per esempio ai 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 quanto pesca bellissimo certo caspita bellissimo quello è un capolavoro in tutti i sensi proprio sì anche di peso ma ma che male ci credo poi cosa c'è beh sempre di Schaller mi sa che abbiamo la teocrazia faraonica però non c'è moltissimo sui corpi lì io ce l'ho quello è ottimo però c'è sull'enneade sì certo sull'enneade sì è dedicato proprio soprattutto a questo anche il libro di René Lasciò che si chiama Magia e iniziazione nell'Egitto faraonico lì c'è tutta una parte dedicata proprio ai corpi alla magia va un po' a fondo su queste tematiche sì bene adesso quando chiuderemo la diretta ti inviterò ufficialmente al centro studi a tenere un mini corso direi sui quattro corpi perché merita qualche giornata vengo bene ti ringrazio a te allora noi salutiamo la nostra ospite invitandovi ovviamente ad approfondire i consigli bibliografici e gli sconti che ci ha dato durante questa diretta io vi saluto tutti e vi do appuntamento a lunedì 23 in cui avremo di nuovo come ospite Giovanni Carmine Costabile non so se ve lo ricordate era venuto a parlare di Tolkien dal punto di vista esoterico e questa volta ci ha preparato un bellissimo intervento sugli anelli magici che io vi invito a seguire specialmente se avete seguito il convegno sulle nozze sacre in cui Elena Righetta ha parlato dello sposalizzo del mare e del gettare l'anello fra i tutti perché abbiamo trovato i parallelismi molto interessanti e Giovanni ce li presenterà fatta la marchetta della prossima quinta si ha fatto uno studio incredibile io ti ringrazio davvero per essere tornata da noi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti questa diretta è veramente volata grazie a tutti e grazie anche a te Anna naturalmente e a questo punto niente vi lascio davanti alle vostre tv perché i film stanno iniziando anzi no sono già iniziati quindi c'è magari hanno bisogno di bere a questo punto un po' di vino dopo questa diretta io contavo che l'avessero già fatto ok giusto va bene seguirci da sobria è un po' impossibile quindi adesso vi mandiamo il nostro meteorite lasciate un like alle pagine che vedete in fondo e anche quella di Sopedet che è il nodo di Iside ciao a tutti buona strada ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.